Il derby in Italia è sicuramente uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli appassionati di calcio e non solo dai tifosi di Juventus e Inter. L'Allianz Stadium è pronto a ospitare l'ennesimo capitolo di una grande rivalità storica, bellissima, del calcio italiano. Siamo a Torino, Allianz Stadium, a Tostera bellissima, pubblico già più che mai in prima partita, a Tostera veramente bollente. Grande calcio nuovamente protagonista qui su EA Sports, un saluto da me e da Lely Adani. Torno allo spettacolo della Serie A con tutte le emozioni e i grandi protagonisti si affrontano Juventus e Inter. Il calcio è la nostra passione, è la nostra ragione di vita, Pierre. Ma cosa vogliamo di più? Cosa chiedere di meglio che poter assistere a un match dal vivo? Dimmelo tu, io spero solo che lo spettacolo sia all'altezza delle aspettative. Occhio a Chiesa che si muove nel mezzo. Grande occasione, intervento provvidenziale, ha tolto la palla dalla porta. Conclusione preda facile del portiere. Questo è lo schieramento di partenza della Juventus. Szczesny tra i pali, Danilo per la difesa con Bremer. Rappiò insieme a Locatelli nel mezzo. Reparto offensivo comporso da Federico Chiesa accanto a Blauvic. Attenzione, che possibilità! Super intervento di Szczesny! La mette verso l'area. Tentativo che svanisce sull'uscita del portiere. C'è grande attesa per la sua prova, potrebbe essere tra i candidati al premio di migliore in campo quest'oggi. Riesce a leggere l'azione come pochi, anticipa la gioca. 1-0, non hanno perso a tempo! Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha porto Condoni. La messa dentro da pochi passi. Era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Si fa festa anche in panchina. Vediamo le risultate del tecnico per questa rete che può cambiare la partita. Incontenibile la sua gioia. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0 Federico Di Marco Buono il pallone recuperato. Si è trascinato il pallone fuori. Non era facile perché c'era una buona marcatura. Bastoni Akan Saranogu Marcus Duram Contrasto deciso Lautaro Capisce tutto il difensore. Ottimo intervento. Buona qui la verticalizzazione. Servito bene Federico Chiesa. E c'è la rete! La seconda! Ancora lui ha saputo colpire. E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. Poteva girare il portiere o scavalcarlo con un pallonetto? Alla fine per non rischiare ha optato per la soluzione di potenza spedendo la palla in fondo alla rete con una gran botta. Conteggio che è cambiato. Allora conducono per due reti a zero. Don Friis Può passarla. E interviene prima che sia troppo tardi. Barella Marcus Duram Prova la botta. Grande parata, grande riflesso. Super qui il portiere. Va via in velocità. Cerca la porta. Palla che finisce sul palo. Intervento sul pallone. Pallone recuperato senza problema. Deve ringraziare i legni che hanno impedito alla conclusione precedente di entrare. Un pizzico di fortuna ogni tanto non guasta. Anche se la squadra avversaria non sarà d'accordo. Può andare. Dobbiamo rimangiarci tutto. Azione che sfuma. Pavard Varela Don Friis Ottima lettura difensiva. C'è spazio per la ripartenza. Danilo Partono in contropiede. C'è spazio. Cross verso il centro. Spazza via il pallone. Palla per McKennie. La deviazione sul tiro. Michitariano. Palla consegnata a Barella. Lautaro. Errore nella circolazione dell'Azzurra. Azione che si fa interessante. Sembrava un'azione interessante. Così non è stato. Miretti. Miretti. Marcus Duram. Servito Mkhitaryan. Si libera la grande. Conclusione forte. Ma pallone che finisce fuori dallo specchio. Un vero peccato, Pier. Era un passo dalla rete. Doveva fare molto meglio di così. Si chiude così dunque la prima metà di gara. Buona fin qui la sua prova. Sicuramente fra i migliori in campo. Inmarcabile in questo match. Portiere difesa avranno gli incubi stanotte. I gol segnati non dicono tutto della sua prestazione. Un fenomeno. Ripresa che ha appena avuto inizio. Juve nettamente avanti nel punteggio. Evita l'avversario. Conclusione murata. Varela. C'è spazio per il contropiede. Servito Mkhitaryan. Palla che scivola sul fondo. Senza problemi per il portiere. Gran contropiede. Ma la conclusione completamente da dimenticare. Arriva il cambio. Grazie a tutti. Recuperano palle dei razzurri. Sostengono la manovra qui. Può segnare e rimettere tutto in discussione. Intervetto che vale quasi come un gol. Corre lungo l'outro a Juve. Si salvano. Qui gli è andata bene. Pallora importante per provare a riaprire la gara. Il portiere dice di no. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Altro tiro dalla bandierina. Occhio al corner. ha provato a fermare al portiere con questa girata di testa. Ballone che è usciuto di parecchio. Prova a andare. Zomber spinge ma palla ancora buona. Grossa ingenuità qui. Concedono una punizione pericolosa. Ci sarà dunque un cambio. Palla che sembrava dentro ma il portiere ci è arrivato. La mette in mezzo. Azione che sfuma. Qui se fosse entrato il pallone sarebbe venuto giù lo stadio. Conclusione apprezzabile ma solo nelle intenzioni. La svirgolata. Palla che poi ha preso uno strano effetto determinata lontanissima dalla porta. Palla. Babà. a Kanshara Nobu perde il controllo della sfera ci sono metri per andare se la cavano possono tirare un sospiro di sollievo Ciala Nobu errore bianconero qui nel possesso sembra risentire ancora della botta di prima si vede che non è fluido nella corsa possesso palla interrotto prova l'avanzata l'Inter lascia partire il tiro grande intervento del portiere c'è un cambio nell'Inter con il numero 22 la mette dentro per Lautaro possono sorprendere la difesa c'è spazio può andare in porta qui grande intervento di Zomber cross verso il centro dell'area cross verso il centro dell'area quadrato dunfrees tocco per quadrato sull'errore del portiere recuperano palla c'è la impeccabile lettura difensiva impeccabile lettura difensiva il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato il dono un'incornata che non ha lasciato scampo al portiere hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3 a 0 Ciannoglu Ciannoglu concessi 4 minuti di recupero Barella Cesli ma attenzione valla ancora viva parata è un protagonista Laubic ferma l'azione d'attacco dagli avversari Barella finisce qui finisce con la vittoria della Juve fanno offenza ai bianconeri un successo oltrameritato rotondo mai in discussione hanno preso in mano il pallino dal primo minuto e non l'hanno più mollato ha fatto cose eccezionali oggi era in grande condizione lo ha dimostrato per tutto il match ma di cosa parliamo Piero? qui le chiacchiere stanno a zero tripletta vittoria è una prestazione semplicemente meravigliosa dopo una partita così si meri si meri